La ricerca clinica indipendente che lo interessi veramente tutti, perché è un prezioso servizio a tutti i cittadini, ma soprattutto i malati, figurarsi come sono interessati i medici, a sapere che viene anche sostenuta, perché la ricerca in Italia come è noto non gode di una grande salute nel nostro PIL, siamo al di sotto della media europea che è il 2%, quindi le fondazioni, i privati, i cittadini che conoscono da dietro le quinte i bisogni di alcuni pazienti danno sia indicazioni sia aiuto alla ricerca indipendente e credo che per tutti i nostri medici, sia gli specialisti che i medici di famiglia, sapere che c'è questa nicchia, non grande ma importante, dà anche uno stimolo anche a raccogliere da parte dei pazienti indicazioni, perché il medico è un canale magnifico per fare che giungano informazioni a chi è ricercatore. Per noi che abbiamo dedicato il libro bianco alla ricerca indipendente è un aiuto, però è un aiuto anche per le istituzioni, quindi la ricerca clinica indipendente integra un grande lavoro a favore dei cittadini.